Sia lodato Gesù Cristo Buongiorno a voi che ascoltate Oggi abbiamo la memoria di Santa Maria Magdalena o di Magdala il paese sulla riva del fiume di Galilea da cui lei prende il nome nella tradizione, contrariamente a quelle che gli ordini biblisti intendono nella tradizione Maria di Magdala è identificata con colei dalla quale Gesù cacciò sette demoni ed è quella che sta sotto la croce ed è quella che per prima vede il risorto e ha la missione di annunciarlo agli Apostoli viene appunto questa figura fatta coincidere dalla tradizione con la peccatrice con lei che lava col suo pianto i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli è la stessa che spande il profumo prezioso ai suoi piedi e Gesù la difende davanti a Giuda e davanti a tutti dicendo che questo suo gesto sarà sempre ricordato è una figura importante quella di Maria Magdalena Maria di Magdala non solo per quello che è la sua personalità che viene fuori con una certa precisione dai tratti dell'Evangelo ma è importante perché testimonia un amore per Gesù di riconoscenza per quello che Gesù ha fatto per lei la liberazione dai demoni e dunque dalla sua vita di peccati c'è una correlazione molto forte fra la liberazione e la vita dissipata ribelle, peccaminosa che si ha perché il demonio spinge a comportamenti che sono contro la legge di Dio contro la legge della moralità della bontà, della carità e soprattutto della purezza Maria di Magdala dunque è importante perché è colei che mostra come nonostante una possessione robusta importante Sette demoni indica un numero notevole di potenze malefiche che la possiedono nonostante questa se la riesce ad andare verso il Cristo verso Gesù il Salvatore e a ottenere per questo anche la liberazione infatti Maria di Magdala non è una delle persone indemoniate che Gesù incontra ma è una donna che si avvicina a Gesù vincendo dunque quella che è la resistenza fortissima che il demonio compie verso ciò che è sacro cioè la presenza stessa di Dio nel Cristo incarnato il sacramento di salvezza il Cristo infatti è la potenza del dito di Dio che toccando i nebrosi e dando l'imperio e il comando al demonio sana le malattie e caccia il demonio dunque riconoscenza grande perché a colei che ha molto amato molto si perdona ed è dunque un modello se vogliamo di un percorso di liberazione non solo per lo stato di possessione che affligge ahimè diverse persone ma anche per quel percorso di amore che si fa verso l'amore stesso che è Cristo poiché il peccato che sempre viene ispirato dal demonio ma è accolto liberamente da noi sempre è condizionamento del nostro animo del nostro intelletto tarpa le nostre ali e ci spinge a peccare sempre di più e a non andare verso la sorgente della salvezza che è il Cristo questa azione di allontanamento progressivo viene rinforzato dai peccati più si pecca più si ha meno la forza di andare verso il Cristo e così che Maria di Magdala è un modello di fortezza di forza umana per vincere gli imperiosi comandi del demonio del peccato e del vizio per trascinare la sua anima alla salvezza questa forza che Maria di Magdala ha è la forza dell'amore stesso che la sente in sé e che è ben distinta da tutte le passioni e i falsi amori della terra di cui lei forse è stata anche protagonista ma li sa distinguere molto bene e l'anima assetata come la cerva che anela i corsi d'acqua cerca il suo Cristo il Salvatore Maria di Magdala dunque è spinta dall'amore e riceve una risposta di amore del Salvatore si potrebbe anche dire che la forza di amore del Salvatore la trae dagli abissi di morte dove si trovava e questa forza d'amore viene a trovare in lei una risposta che cerca anela e viene per questo liberato ed è questa forza che spinge Maria di Magdala sotto la croce ed è sostegno insieme alla madre in quello che è lo strazio della morte terribile sulla croce del Cristo unitamente a tutta la folla che insultava dileggiava e inveiva contro le stesse donne che stavano lì sotto la croce e sotto la croce c'era la madre Maria di Magdala e Giovanni gli altri erano molto distanti l'amore dunque spinge Maria di Magdala ad andare al sepolcro e non è in cerca si va di bene della resurrezione del Cristo sembra proprio il contrario va per terminare quelle che sono le operazioni della sepoltura l'imbalsamazione del corpo e invece incontra il risorto che ostinatamente pensa di non incontrare e quando lo vede nel giardino cercando il corpo vedendo la tomba vuota non riesce a riconoscere il suo Gesù lo sente quasi di spalle noi diremmo con la coda dell'occhio e quando finalmente dice donna chi cerchi e lei è preoccupata di trovare il corpo di Gesù non può e non si aspetta il Gesù vivo risorto Signore hanno portato via ma se tu sai dove lo hanno portato dimmelo sappiamo che Gesù la chiama per nome lei si volta riconosce finalmente da quella chiamata il suo salvatore Rappunì l'istinto di Maria è quella è quella di stare ai suoi piedi si setta ai suoi piedi e vorrebbe abbracciare i suoi piedi così come forse con lo stesso atteggiamento con cui fece quando pianse le lacrime di perdono di richiesta di perdono e il pentimento toccando i piedi di Gesù non rimettangere non mi toccare non mi trattenere traduce oggi il testo italiano perché ancora non sono salito al Padre come a dire entro in un'altra dimensione che è quella della salvezza universale che verrà a te e a tutti attraverso la mia posizione che è alla testa del Padre dove dicevo ogni potere il mio modo di stare vicino a voi provvisoriamente è questo della risurrezione sarà quello della pienezza di Spirito Santo che abiterà nei vostri cuori ed ecco che per questo amore per questa fedeltà per questo cuore intrepido che non teme persecuzioni di legge non teme per la propria vita Maria viene mandata dai suoi come testimone del risorto è la prima a cui appare come risorto a parte come sappiamo molto probabilmente era già apparso la madre così come San Giovanni Paolo II ebbe a dire ma dobbiamo notare come non è la fede nella risurrezione ma la fede che ella ha nell'incontro con l'amato che riconosce risorto che viene premiato è il suo amore che viene premiato la sua fedeltà cosa che non hanno gli apostoli infatti diventa lei la prima annunciatrice del risorto insieme poi dopo anche le altre donne perché meritano per questa loro fedeltà al Cristo per questo amore va a dire ai miei li attendo sono risorto li attendo in Galilea e si continueranno a non credere non credere al risorto tutto è avvenuto in loro si è spenta o è diminuita la forza dell'amore Pietro verrà sanato mi ami tu mi ami tu mi ami tu la forza dell'amore è dunque il centro di ogni cosa che nutre dunque la fede la speranza e dunque anche tutto quello che è la nostra vita terrena in attesa di quella della risurrezione che ci attende non c'è prima la fede che crede un oggetto fuori di noi ma c'è prima l'amore che spinge al possesso dell'amato e dunque l'amato diventa oggetto di fede cioè tutto quello che gli mi dice io lo credo Dio vi benedica